ad accogliervi sarà Conegliano ben trovati al meteo l'alta pressione torna temporaneamente a prevalere garantendo così una giornata di bel tempo vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 9 settembre sul veneto la nostra grafica ci mostra condizioni asciutte e stabili sarà dunque ampiamente soleggiato e il cielo si presenterà sereno e sgombro da nubi non sono previste piogge degne di nota temperature minime tra 15 e 20 gradi valori massimi oscillanti invece tra i 25 e 30 gradi all'incirca stessa situazione poi anche sul friuli venezia giulia con sole su tutti i settori e cielo ancora sereno o al massimo velato temperature minime fino a 19 gradi massime sui 26 27 gradi infine sul trentino alto adige ci attende una giornata soleggiata anche qui non sono attese precipitazioni temperature minime sui 16 gradi massime fino a 28 gradi all'incirca dal meteo di antenna 3 per ora è tutto arrivederci al prossimo aggiornamento ad accogliervi sarà conegliano grazie a tutti